Se invece n è piccolo, dobbiamo vedere se l'universo è normale e in questo caso dobbiamo vedere se sigma è noto. In quel caso dobbiamo utilizzare sempre il test z, utilizzando questa statistica test. Se invece sigma non è noto, allora dobbiamo utilizzare la statistica test t di x medio, x medio meno mu zero diviso s core diviso radice di n, che sotto la condizione in cui l'ipotesi nulla è vera, quindi mu uguale mu zero, si distribuisce secondo una TD student con n meno 1 gradi di libertà. Vediamo un esempio. Un processo di produzione automatizzato produce scatole per scarpe con media e varianza incognita. Si vuole verificare a livello dell'1% se il peso medio delle scatole nel processo è significativamente inferiore 250 euro. Viene estratto un campione casuale di 25 scatole, il cui peso medio è pari a 230 grammi e s core uguale 52 grammi. Quindi varianza incognita, qui l'ho segnato di rosso perché nel caso in cui la varianza dell'universo fosse nota invece, avremmo dovuto utilizzare comunque il test z. Qui abbiamo un processo di produzione automatizzato per cui l'universo è normale, n è piccolo e la varianza è incognita per cui dobbiamo utilizzare il test di di student. N uguale 25, x medio uguale 230, s core uguale a 52 e i gradi di libertà g sono uguali a n meno 1, quindi 25 meno 1 uguale 24. Ipotesi nulla mu uguale 250, ipotesi alternativa sarà unilaterale sinistra, mu inferiore a 250, mu zero uguale 250, costruiamo la nostra statistica test, x medio 230 meno mu zero 250 diviso s core 52 diviso radice di n, quindi radice di 25, uguale meno 1,92. Quindi dobbiamo confrontare questa statistica test con il valore soglia. In questo caso l'ipotesi alternativa è unilaterale sinistra, quindi la regione di rifiuto cade nella coda sinistra e ha un'area uguale a 0,01. Quindi dobbiamo cercare meno T di alfa perché l'ipotesi alternativa è unilaterale. Se fosse stata bilaterale avremmo dovuto cercare meno T di alfa mezzi, quindi meno T di alfa in corrispondenza di g gradi di libertà. Quindi 0,01 è il valore di alfa e 24 è il valore dei gradi di libertà. Andiamo sulla tavola T di student, vado in corrispondenza di 24 gradi di libertà e in corrispondenza del valore uguale a 0,01 e trovo un valore uguale a 2,4922. Quindi meno 2,4922 perché l'ipotesi alternativa è unilaterale sinistra, quindi dobbiamo considerare questo valore come negativo. La statistica test è meno 1,92 e quindi cade nella regione di accettazione in quanto è maggiore di meno 2,4922, quindi del valore soglia della T di student. Quindi non rifiutiamo l'ipotesi nulla, il peso medio delle scatole nel processo, secondo questa indagine, non è da ritenersi significativamente inferiore a 250 grammi.